Benvenuti a Due Mondi che si incontrano, il format che unisce l'università alla città di Siena. Oggi vi porteremo nello studio di Pierluigi Holla che ci illustrerà le sue opere. Ci troviamo ora nello studio dello scultore Pierluigi Holla che ci illustrerà le sue opere. Parleremo a questo punto della parte non della scultura quanto del rifacimento dei costumi. Ogni 20-25 anni a Siena si rinnovano costumi del corteo storico. È stato un lavoro estremamente interessante per me, cominciai già negli anni 70, ma forse anche prima per altre cose, per altre manifestazioni extra-Siena. Però a Siena invece mi toccò per gli anni 70 e in 71 si cominciò tra l'altro per la pelletta di due contrari. E poi lavorare insieme al gruppo comunale, per il gruppo comunale e in quell'occasione fece anche il carroccio. Quindi fu tutto un lavoro di ricerca filologica molto attenta, molto precisa, più possibile, naturalmente compatibilmente con i materiali, disposizioni e con tante altre problematiche che ci sono nel corteo storico. Non è che sempre si possa lavorare con la massima cura, però al massimo che potevo farlo, ho cercato di farlo. Per quello che riguarda appunto le contrari, ad esempio io già a quell'epoca feci Chiocciola e Leocorno. Nel 2001 invece ho fatto Chiocciola, Montone, Leocorno e Luca, la mia contrari, tra l'altro, quindi lì dove era un sogno che avevo fin da ragazzino. Ho trovato un disegno del 1973, l'epoca del rinnovo dei costumi fatti da altri, evidentemente che avevo 17 anni, sicché non era che fosse per me un'occasione particolarmente ghiotta poterlo fare, mi sarebbe piaciuto tantissimo. Per cui poi mi è sempre piaciuto, mi è sempre interessato quello di ricostruire attraverso l'abbigliamento, le armi, eccetera, un periodo del passato. Poi appunto il palio si prestava in un modo particolare, perché ricostruire il palio dovrebbero essere datati intorno alla seconda metà del 400. Cioè l'epoca in cui praticamente nascono le contrari, non il palio. Nascerà il palio della tonda, soprattutto il palio delle contrari, nascerà più tardi, però già a fine del 500, i primi del 600 soprattutto. Però già le contrari avevano già acquistato il loro nome già nel 1400. Mi sono divertito molto a fare la ricerca, questo è affascinante, era cercare tutti i dettagli particolari, le piccole cose che possono sembrare inutili o non importanti, invece puoi t'accorgere che sono fondamentali, perché se non le sai leggere capisci che poi dopo non funziona più nulla. Ad esempio, per portare dei piccoli esempi, quanto è niente, ad esempio le agulelle, cioè i famosi quelli accetti che si vedono cusciti, fissati qui sulle spalle della manica di certi figuranti, che se si guardano i dipinti si trovano molto spesso, però non riuscivo, me ne immaginavo, ma non riuscivo ancora a trovare un perché, perché sicuramente c'era una funzione, perché quasi mai la parte dell'abbigliamento non erano mai fine a se stesse, come decorazioni soltanto, erano funzionali a qualcosa. Tant'è vero, in un dipinto che c'è quassù a Monticiano, nella sala del convento di Sant'Agostino a Monticiano, c'è una figura, una resurrezione di Cristo e c'è una figura di soldato, siamo a seconda metà del 400, che sta addormentato così e si vede benissimo che ha dei bracciali in ferro e le agudelle che servono a legare il bracciale della corazza. A questo punto ebbe la conferma del sospetto che avevo, insomma, intanto è vero, infatti poi l'ho usato proprio in vista, ad esempio, alla Monta della Lupa, io l'ho proprio messo ben in evidenza, proprio perché volevo dimostrare a che cosa servivano, insomma, in un'armata di scorta al duce. Per quello che riguarda il resto, tutti quanti i dettagli ho stati studiati, ad esempio, non so, la famosa resta, si dice, tuttora si usa a dire, quando uno si lancia in qualche cosa, lancia in resta, perché la lancia in resta era la lancia del torneo che viene appoggiato su questo gancio che c'era sul petto dell'armatura, chiamato la resta proprio, che qualche volta aveva anche la controresta, cioè una barra di dietro che agganciava in senso invece opposto, in modo da tenere equilibrata la lancia, con la quale con questa lancia di circa 4 metri e mezzo, 5, tra parentesi, era abbastanza lunga, doveva scontrarsi con l'avversario. E a questo punto mi sono divertito, perché le reste sono anche spesse volte lavorate, allora mi sono divertito a costruirmi una da me, me la sono fatta per il leocorno, ad esempio è questa, questa qui è in gesso, tuttora, poi è stata fusa in bronzo, ed è servita, aspettate un po', forse bisogna la luce, ecco, con la figura del leocorno, ecco il sistema di attacco, qui ci vanno, nell'armatura ci sono dei ponticelli, uno spillone e li lega tutti quanti insieme, e quindi imperisce alla resta di cadere, di muoversi, insomma, l'onorevo fatto in modo molto intelligente, di questo poteva appunto portarla durante il torneo, in altre occasioni, ma poteva benissimo smontarla, nel caso che avesse bisogno di portare sopra una sopravveste, e quindi poteva dargli noia alla sopravveste, quindi è tutto una cosa che io, o semplicemente studiato, come tutto quanto il resto, ad esempio, qui c'è degli esempi di stivali, scarpe, questi sono gli stivali che ho fatto per le armature, perché quel discorso che non è esattamente come in un originale, però l'effetto deve essere quello, perché quindi ho messo una parte elastica al centro, in modo che l'armatura, soprattutto la parte finale dello schiniere, non facesse male alla vigna, quindi ho dovuto fare uno stivale alto, però stesso tempo elasticizzato, perché se io ci metto anche le stringhe, davano noia sicuramente, invece a questo punto è più pratico, di solito poi in fondo quasi sempre ci ho messo un attacco di laccetti, per tenere ferma la maglia di ferro sulla scarpa, tutte cose che lo stesso che sta, poi ad esempio le spade, ad esempio queste qui sono spade del montone, questa è spada e pugnale, pugnale a rondelli, queste sono tonde, queste qui, e la spada è questa, tra l'altro mi sono ispirato, dal punto di vista caratteriale, proprio di questo elemento del gancio, qui che protegge il dito, durante il combattimento, mi sono ispirato un pochino a quelle ferri, che si chiamano, le ferri che ci sono via a Palazzo di San Galgano, via Roma, che sono appunto le spade di varie forme, tutte siamo intorno alla fine del 400, quindi mi tornava bene con i costumi del montone, che avevo trattato intorno agli anni 80 del 400, perché anche lì tra le... Ma l'ha pensato anche per una vicinanza del palazzo? C'era anche questo discorso, naturalmente, volevo anche collocare il costume della contrata, in relazione anche all'ambiente, perché alla storia dell'ambiente, altrettutto, dove era possibile, lì è la zona abbastanza recente, dal punto di vista, diciamo, abitatività, eccetera, non è proprio la trecentesca, è proprio, salvo si chiede, la chiesa di Santa Maria dei Servi, ma insomma, è soltanto, poi tutto è rifatto nell'altro nel 500, quindi abbi grosse modifiche, però la zona era abbastanza disabitata, c'era qualche convento e basta, tant'è vero, ti diceva nel convento, nel montone c'erano tanti, tanti conventi, nessun vinaio, perché i vinaio devono stare a distanza, regolamentare dai conventi, perché altrimenti gli ubriachi erano troppo vicini a conventi, quindi evidentemente, infatti, non c'era un vinaio, erano solo fino ai primi del novecento, non crediamo che ci vada, perché in realtà, poi certe cose si sono mantenute nel tempo, certe caratteristiche anche ambientali, addirittura caratteristiche di linguaggio, tra il contato e l'altro, c'erano delle differenze, c'erano, ora non ci sono più, la televisione ha cancellato un po' tutto, ma una volta c'erano differenze, anche di linguaggio, anche di modo di parlare, anche di tantissimi piccoli dettagli, che uno, quando parlava con una persona, dice questo deve essere dell'onda, lo diceva subito, si diceva subito, perché erano caratteristiche molto precise, cercava di avere, mantenere un linguaggio ironico, già da differente, e cercava appunto di ricollegare, appunto, questa caratteristica della contrada, del suo insieme, del suo popolo, cioè, con i costumi, in modo che ci fosse questo collegamento stretto, inoltre, tra l'altro, anche il montone, quel DN1, il val di montone, per essere esatti, perché il termine poi diventa montone, ma insomma, è il val di montone il termine esatto, il montone era una contrada, che ha come emblema proprio la riete, quindi la riete mi ricollegava facilmente all'ariete romano, quindi è un periodo, infatti, alla fine del Quattrocento, in cui c'è una forte tendenza al neoclassicismo, un neoclassicismo del Quattrocento, evidentemente non parlo di quello dell'Ottocento, però c'è questo richiamo continuo alla Romanità, e lo si trova in tantissimi casi, insomma, e tant'è vero appunto che la riete addirittura l'ho fatto spalzare sulle spallacce del Duce, perché? Le spallacce del Duce perché io non avevo il coraggio di farle all'inizio, poi dissi ma nel Quattrocento è sempre, la corazza è sempre molto liscia, molto pulita, molto essenziale, il val si non si trova, se non che vada a Napoli e nel Duomo Ivetto di Napoli ti trova una tomba di una famiglia, in questo momento mi manca, comunque poi lo dirò, che aveva gli spallacci sbalzati a testa di Leonina, quindi a protome Leonina. Siamo nella seconda età del Quattrocento, lì siamo atto negli anni Settantacinque, e che disse? Sì, le armature di solito delle tombe sono quelle che avevano, che ci senevano molto a riprodurre le armature vere che avevano nella loro tomba, perché l'armatura era un po' anche un elemento, diciamo, di distinzione sociale, più l'armatura era bella, più era importante che la portava, che costavano quanto una Ferrari oggi, è una armatura fatta su misura, insomma, in proporzione ai tempi, insomma, non è che fosse... Aveva un valore... Aveva un valore anche simbolico, aveva molto forte, per cui ci tenevano molto a fare le... esattamente, ma se questo qui, un caracciolo, era un caracciolo, porta le protome leonine, perché il suo stemma scegliono le rampante, io nel montone, mi posso permettere di mettere le protome di Ariete, evidentemente, infatti le ho disegnate, le modellai, poi le portai al fabbro, il quale ci fece lo stampo in sopra, ci fece a mano, e batterono queste protome leonine, in modo abbastanza forte, come tutta l'armatura, tra l'altro la ripresa pari pari, da lì, non mi fiacco proprio ripetere queste cose, e per quello che riguarda, non so, appunto le spalle, e questo è un esempio, il tipo della spada del Quattrocento, poi ci abbiamo, non so, come si è accorto, molto spesso, alla fine del Quattrocento, ci sono le lame, sono incise all'acqua forte, dorate, spesse volte, sono armi più di rappresentanza, evidentemente, in combattimento magari non le usavano, cioè, le usavano i nobili magari, per distinguersi, ma non per altro, e qui ci ho messo appunto alcune cose, che riguardavano appunto, cioè San Michele Arcangelo, perché San Michele erano dei santi, che riguardavano il Montone, in qualche modo, della legata al Montone, testa di Montone, le cornucopie, cornucopie, simbolo di ricchezza, di abbondanza, e poi il motto, che è un motto, che mi ha suggerito un mio amico, che è storico, quisse ut deuse, icche fulge a te gloria vinci, invitti, qui rifulga la gloria dell'invitti, del non vissuto, lo stesso vale per tante altre cose, ora è che dicevo qui, con le scatole ho fatte già vedere, per esempio, sui primi studi, ho fatto quelli bandieroni, e poi più o meno è stato realizzato in questo modo, con le due cornucopie, lo stemma al centro, e questo è il primo pozzetto, tirato via abbastanza rapidamente, ma per avere l'idea abbastanza chiara, lo stesso per questo è la gualdrappa del cavallo da corsa, il cavallo da corsa che durante la sfilata porta la gualdrappa con cui è stato ricamato questo ariete, questo ariete che lo fece ricamare con la lana, mentre con la seta erano le zampe, la testa e il resto era fatto invece con l'anima, in modo da creare questo senso tattile quasi dell'animale, naturalmente lo stemma riguarda quello poi dato da Umberto tra fine ottocento e quelli del novecento, poi non so, altri esempi, esempio questo qui era l'arte della seta, l'arte della seta aveva come santo protettore San Galgano, allora siccome in via, sempre in via a Roma c'è quel bellissimo tabernacolo del Quattrocento di Giovanni di Stefano, figaro del Sassetta, che nella seconda età del Quattrocento scolpisce questo bellissimo tabernacolo e qui c'è lo stemma proprio di San Galgano, due alberi, la spada affilata nella roccia e quindi l'ho ripreso pari pari da lì per il banghierino, questo è un altro figurante, questo qui ecco, anche questo qui e questo è un Crivelli, siamo da metà del Quattrocento sempre, con questa cintura portata bassa sulla giornea, sulla veste e questo anche quello rifatto pari, ecco qui ci sono i famosi ferri che dicevo, del palazzo San Galgano, con questo modello qui, questo ad esempio sono dei gioielli, anche questo per il montone, gioielli ho disegnato e fatto realizzare proprio con le perle, con queste pietre rosse, chiaramente non si tratta di in argento dorati, chiaramente ecco non andiamo a esagerare, perché una volta si poteva anche fare, a parte il fatto che poi a Siena c'erano leggi suntuarie che impedivano certe ricchezze, ma insomma poi questo si lascia andare, ecco, questo è un frammento di tessuto che ho fatto rifare per il montone e che proviene da una pianeta attribuita a Pio II nel Museo di Pienza, attribuita e basta, non è che questo è un vincione granché, questo sempre è il soprallasso del montone, e qui interessante, ho voluto metterci i crescenti piccolominei, perché il montone piccolomini aveva il castello proprio dove ora c'è più o meno la chiesa di Santa Maria dei Servi, quindi l'origine della famiglia proprio viene da lì, i piccolomini, quindi a questo punto un riferimento ai piccolomini ce l'ho voluto mettere per forza, anche quello mi piaceva farcelo perché non potevo ignorarlo sicuramente, poi abbiamo, non so ora, per vedere altro genere, qui sarebbe lungo lo stesso, qui abbiamo addirittura foglio delle spalle, con tutti i montoni decorativi, che poi anche questi bisognava cercare di trovare dei sistemi per risparmiare anche, se io facevo fare questi lavori a mano, mi costava una barca di soldi, e invece ho trovato che ci sono delle fasce di metallo di ottone traforato, che si vengono usate di solito per i lampadari, ritagliandole, utilizzandole, erano perfette del 400, una cosa che a questo punto risparmiando parecchio e facendo il lavoro, dorate e tutto, ma anche diventa una cosa dell'epoca, insomma non è che fosse una cosa tanto al di fuori, insomma, e quindi con gli attacchi vari, questo è lo stesso, gli attacchi di vari pugnai, sempre ricavati da strutture o da elementi originali dell'epoca, ora vi faccio vedere anche, ecco qui un'altra cosa che ho fatto vedere, questa è una fotografia di un dipinto, in cui si vede la maglia di ferro sulla scarpa, invece l'ho collegata con lo spago, con il cordoncino, perché altrimenti ci inciampano a finire, però questo è interessante, questo è il paggio al fianco del Duce, con questo scudo che poi ho realizzato quasi detto da me, questo prima lo sono realizzato, la corazza, che dipende da questo stesso dipinto dove c'è il petto della corazza, si vede bene, poi altri materiali, ecco questo ad esempio è un materiale che ho usato anche per la lupa, in oro naturalmente, in giallo e oro, che è il mercurio, mercurio è ricavato dal mercurio del botticello, ha questo disegno, mi chiamano i polipini, mi chiamano in realtà la fiamma, ecco un'altra cosa, questa è che risale agli anni 70, è la ghioccia, era molto bello, avete affilato d'oro, cioè, è affilato sottilissimo di rame, dorato a bagno galvanico, e questo è il velluto di seta, se non che, cosa è successo, non l'ho potuto rinnovare recentemente, perché è successo che il rame, che è l'anima, diciamo, della doratura, con il sudore, spuso il verde rame, diventava una ghiocciola che aveva invece come colore complementare il verde, che non era proprio quello che volevano insomma, e allora anch'io stesso, a questo punto non si lascia perdere il filato d'oro buono, e si piglia l'urex, cioè un materiale plastico che fa un effetto simile, simile, andiamoci piano, non uguale, simile, e molto meno bello, insomma, evidentemente, però, questo non dà questo effetto verde, diciamo, rimane sempre. Esatto, e poi mi si manchia del tempo, perché questo qui tende a filacciarsi, essendo metallo, sì, quindi, e tutto quanto non spegna chi io, poi diventa, e mentre questo, mi rimane sempre uguale, a questo punto, tendo che si davanti a questa situazione, bellissimo quello, da nuovo, però dopo un pari di anni, già cominciava a rovinarsi, a questo punto ho preferito risolvere, questo qui è sempre per la contata della chiocciola, questo qui è sempre per la contata della chiocciola, questo qui è una prova, perché mi facevo varie varie prove, ed è un disegno ricavato dal sassetto, sì, dal dipinto del sassetto, l'ho modificato soltanto sulla parte centrale, perché ci ho voluto mettere la ghianda, anche perché lì c'era la contata della quercia, che era una contata estramenia, che fu assorbita invece da la contata della chiocciola, quindi anche il discorso storico, per lasciare un ricordo, un ricordo sempre, tuttora infatti è l'unica contata che può mettere le proprie bandiere fuori dal territorio, fuori dalle mura, perché nel territorio suo c'è questa contata della quercia, c'era, che era stata assimilata dalla contata della chiocciola, quindi cercano sempre di mediare queste situazioni particolari, la lupa ad esempio, ha una caratteristica molto più classica, ma classica, ancora abbastanza arcaica, la lupa romana, si prestava per tante cose, però ho cercato di fare una cosa abbastanza pulita, poi c'è il colore bianco, nero e arancione, mi si prestava in modo particolare per certe pulizie, per certi elementi, anche lì ho lavorato parecchio con materiali più possibilmente aderenti alla realtà storica, tempo compatibilmente con le questioni, sia anche economiche, una situazione economica, che allora non era neanche tanto male, sono passati già 21 anni dal rinnovo ultimo, e siccome ci vogliono diversi anni, tra fare nuovamente i figurini, modificare certe cose, e realizzare materiali soprattutto per i nuovi costumi, diventa problematico, perché insomma sui 25-26 anni massimo, di più non si può andare, perché già questi costumi già risentono dell'ugorio del tempo, insomma, l'unico forza che resiste ancora è il carroccio, perché fa pochi chilometri all'anno, insomma, veramente quello mi sopravviverà, mi fa piacere perché ci ho messo l'anima lì proprio il carroccio, perché tra l'altro si lavorava sempre con Sartorie, fuori Siena, perché a Siena il mal artigianato era morto, e io gli ho detto il carroccio si fa a Siena, dobbiamo fare a Siena, almeno quello, facciamo la Siena, tant'è vero, mi ricordo, i miei colleghi, Marichelli e Pollai, si lavoravano in gruppo comunale, mi disse, pensaci te il carroccio, perché noi si pensa ad altro, e te pensaci soltanto te, perché sei geometra, io sarei geometra, non l'ho mai fatto, ma insomma, comunque sono diplomato a geometra, quindi sai fare i disegni, impianta, prospettive, sezioni, va bene, a quello lì ci arrivo, e allora pensaci a fare il progetto del carroccio, mi feci vedere anche a loro, logicamente, ci si mise un po' d'accordo, in livello di massima, e studiava il tuo carroccio, basandomi, prima, sul carro trionfale di Federico da Montefelti, di Piero della Francesca, situazione molto pulita, molto lineare, e poi rivestito come i cari trionfali di Schifanoia, le affresche di Schifanoia del Costa, di Ercole e di Roberto, in cui c'è questi drappi, che scendono su questi elementi, queste grandi batole, sui fianchi del carroccio, lo schema era quello, insomma, inoltre, tra l'altro, in quello di Piero della Francesca, c'è proprio una cornucopia davanti, con sopra un punto, quindi sì, meglio di così, quindi la cornucopia mi va bene per il palio, il cornucopia è simbolo di ricchezza, splendido, il palio è il simbolo maggiore di questa cosa che si deve raggiungere, quella cosa più importante che si deve raggiungere. Per cui, mi ricordo, andai da, prima cosa, da un pezzo di segno, e poi andai da un fabbro, per la struttura ferrea, dei coso, le ruote, il telaio, tutte le parti meccaniche, no, che stavo studiando, ma ancora c'era da, io non avevo mai fatto un carro, in vita mia, sì, che non è, che fosse una cosa molto semplice, e andai da questo fabbro, ricordo lì a Palazzo Diavoli, questo signore, il Colani, andai e tra gli si dice, senta, avrei da fargli fare un lavoretto, so, pieno di lavoro, non, prima di due o tre messe, non ce ne parla nemmeno, si tratterebbe, del carroccio nuovo del palio, ah, fece, e la cosa abbia, abbiatamente, fu di una, di un impegno, questo uomo, ci mise, incredibile, veramente, la passione, ce l'aveva messo, perché, fare il carroccio, non era una cosa, da tutti i giorni, ogni volta, l'ultimo risaleva al 28, quindi, insomma, non è che fosse da, da buttare via l'idea, di fare il carroccio nuovo, allora, poi da lì si passava il falegname, si passava il tagliatore, via via i vari autori, hanno lavorato in questo carroccio, uno dietro l'altro, con molta, con molta passione, insomma, veramente, ho avuto delle soddisfazioni piuttosto grosse, proprio perché tutti quanti, ci hanno messo il massimo, l'unica cosa fatta a Firenze, fu invece, da balzare, lo standard bianco e nero, del comune di Siena, strano, ci dovrebbe essere stato, il primo corso da fare a Siena, ma ormai, la Sartella Trasorale, pensava a tutte le stoffe, e a questo punto, si fece fare anche quella, ormai eravamo lì, non si poteva, tra l'altro, la Sartella Trasorale di Fiorentina, allora, aveva dei personaggi, veramente notevoli. Ringraziamo il nostro ospite, ora lasciamo spazio, alla parte universitaria. Benvenuti a questa nuova puntata di Due Mondi che si incontrano, oggi ci troviamo al Santa Chiara Lab, dove incontreremo dei ricercatori, che partecipano alla Bright Night 2021, seguiteci per scoprire i loro contenuti. Siamo in compagnia della professoressa Marti, che ci illustrerà il suo progetto proposto a Bright Night 2021, di cosa parla il suo progetto professoressa? Abbiamo tanti progetti, abbiamo una mostra di progetti, che sono stati realizzati da studenti, dell'Accademia di Fabricazione Digitale, è un'accademia internazionale, e appunto il tema di quest'anno, era il tema della sostenibilità, e abbiamo un orto idroponico, costruito da una nostra studentessa, che si innaffia da solo, quindi sa quando la terra ha bisogno di essere innaffiata, quando ha bisogno di luce, abbiamo una mostra sulle bioplastiche, fatte tutte appunto con materiali bio, abbiamo un progetto, che è un progetto molto importante per il nostro laboratorio, stiamo sviluppando, insieme con il Dipartimento di Biotecnologie Mediche dell'Università di Siena, e con il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Firenze, delle mascherine ortodontiche, pediatriche, per correggere le malocclusioni della mandibola, e la cosa particolare è che noi realizziamo queste mascherine personalizzate, quindi a partire da una scansione del volto del bambino, disegniamo, modelliamo queste maschere, le stampiamo in 3D, e le facciamo diventare maschere di supereroi, quindi ogni bambino diventa un supereroe, e la maschera è collegata ad un gioco, a un videogioco, che dovrebbe motivare appunto i bambini a tenerla, quindi più si tiene la maschera, più si indossa la maschera, e più il supereroe riesce a superare le sfide. Questi sono concetti, diciamo, di, si chiama gamification della terapia, far diventare una terapia medica un gioco, e abbiamo fatto all'aperto appunto con dei bambini, abbiamo simulato questo gioco, che sarà un videogame, fisicamente, proprio per vedere il loro livello di coinvolgimento, e qui al Santa Chiara Lab è stato un luogo ideale, perché i bambini hanno giocato con i nostri supereroi, hanno superato le sfide, ed è stato molto interessante vedere la reazione dei bambini. In generale, al nostro Fab Lab, ci occupiamo molto di progettare prodotti e servizi, che poi realizziamo con le strumentazioni che abbiamo a disposizione, dalle stampanti 3D, macchine di taglio laser, abbiamo una falegnameria dove costruiamo questi oggetti, e ovviamente facciamo formazione. Quindi formiamo i nostri studenti ad acquisire le competenze digitali, in realtà si chiama artigianato digitale, perché è in parte fisico e in parte virtuale, quindi mescoliamo bit e atomi, come se fossero la stessa materia, per creare dei progetti di innovazione. Siamo qui al Santa Chiara Lab con il professore Alessandro Innocenti, che ci illustrerà il suo progetto, Knowledge is Experience. Professore, di cosa tratta il suo progetto? Sapete, il progetto è un progetto di realtà virtuale, che quindi cerca di far diventare un'esperienza, un processo di apprendimento, cioè attraverso la realtà virtuale, sia nei corsi che facciamo con i lavoratori, sia nei corsi che facciamo in accademia, cerchiamo di far diventare un'esperienza vissuta, un'esperienza che è in realtà virtuale. È un modo di apprendere diretto, ciò che invece normalmente viene insegnato attraverso una lezione frontale, verso una lezione in aula. Quindi noi usiamo la realtà virtuale, i caschetti Oculus, che adesso sono anche facilmente trovabili, commerciabili, acquistabili, come uno strumento per la didattica, per la didattica sia in aula sia a distanza. È uno strumento che permette una diretta esperienza dell'argomento di studio. Ringraziamo il professor Alessandro Innocenti. Ci troviamo al Santa Chiara Lab con la professoressa Giulia Collodel, che ci mostrerà il suo progetto. Questo progetto che si chiama OxyStress, è un progetto nato dalla collaborazione di due dipartimenti, del Dipartimento di Medicina Molecolare per il Sviluppo e del DISPOC, soprattutto del DISPOC del Laboratorio di Realtà Virtuale. È nato per, è un progetto importante da un punto di vista didattico, in quanto è un modo diverso per acquisire certe conoscenze, in particolare in questo progetto si cerca di far conoscere, senza studiare, fra virgolette, ma giocando, il ruolo di certe molecole che sono presenti nell'alimentazione e il loro effetto sulle varie cellule, in particolare sugli spermatozoi, e quindi il buon effetto di una buona alimentazione sulla riproduzione maschina. Ringraziamo la professoressa Giulia Collodel e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie a voi.